Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malattie di sport. Angolo NBA, gara 2 di una serie strepitosa. Dermy californiano, Golden State, Sacramento. Siamo nella casa dei Sacramento Kings che hanno vinto ancora, dopo aver vinto gara 1, hanno vinto anche gara 2, 114-106 al termine di quella che è stata finalmente una vera partita di playoff, il playoff che piace, che mi piace, che mi piace da sempre. Non sarà più l'NBA di una volta, Sacramento Kings sono legati in molti dei ricordi di quando seguivo sempre l'NBA, quella squadra spettacolare, Mitch Richmond, uno dei miei giocatori preferiti di sempre, quando poi era arrivato Weber, poi Divac e Stojakovic, quella serie favolosa di finale contro i Lakers per andare a giocare poi per il titolo, il canestro di Orri allo scadere, la voglia di Sacramento di battere i Lakers di allora, poi un lungo periodo buio, ritornati finalmente dopo 16 anni ai playoff, per la prima volta nell'era Curry, nell'era Warriors 2-0 sotto in una serie, al termine di una partita questa gara 2 che è stata strepitosa. Mi sono veramente divertito molto, fisicità è stata la chiave, l'intensità, Sacramento ha giocato soprattutto nel secondo quarto con un'intensità favolosa e ha messo sotto Golden State che ha faticato invece, ha perso troppi palloni, il dato chiave della gara sono le palle perse, Sacramento ne ha perse 14, Golden State ne ha perse 22, da quelle palle perse sono venuti 9 punti a favore di Golden State, ma 25 a favore di Sacramento. Difficile vincere quando si perdono così tanti palloni, difficile vincere soprattutto in quel secondo quarto, nel quale dopo in un primo terminato 23 a 17, un punteggio europeo direi, nel secondo quarto invece Sacramento si è scatenato, è partito Monk a mettere delle triple, Sacramento nel complesso ha tirato malissimo da 3 punti, 9 su 38, solo il 24%, però ha messo le triple nei momenti decisivi. Monk ha scavato il primo fossato per andare a riprendere Golden State quando sembrava scappare nel primo quarto, e poi nel finale le triple hanno messo la fuga decisiva, soprattutto quello che è stato, abbiamo visto il migliore giocatore di Andre Fox che è stato strepitoso, forse percentuale al tiro non delle migliori, ha chiuso con 10 su 23 e 2 su 10 da 3 punti, ma ha messo soprattutto quella tripla che ha scavato poi lo scarto nei minuti finali decisivo. Gara molto fisica, i duelli soprattutto tra Green e Sabonis, Sabonis giocatore che gioca con un'intensità folle, butta il suo corpo da tutte le parti, non facile secondo me da arbitrare, partita complessivamente di una difficoltà folle da arbitrare, serie di contatti infiniti, un metro arbitrale che non mi è assolutamente dispiaciuto, Zack Zarba, il crew chief, insieme a Foster e Davis uno dei miei arbitri preferiti e credo abbia fatto un buonissimo lavoro, Golden State per esempio però inizio del terzo quarto, 4 falli in un minuto e 20, è difficilissimo difendere in uno contro uno dell'NBA, è una cosa quasi impossibile perché la forza fisica degli attaccanti rende veramente difficilmente arginabile le giocate. Espulsione di Green poi nel quarto quarto quando in un duello a rimbalzo è caduto a terra Sabonis, Sabonis gli ha tenuto la caviglia per liberarsi dalla morsa, Green ha schiacciato sul basso ventre Sabonis che è rimasto a terra, gli arbitri hanno inizialmente fischiato un fallo tecnico a Green perché quando sono andati a rivedere le immagini hanno deciso fortunatamente anche per un tecnico a Sabonis perché la giocata sporca iniziale l'aveva fatta lui, poi però Green è stato espulso e nel finale questo ha caricato ancora di più la folla per guidare a una parte da prima, mancavano 7 minuti alla fine di botte e risposta in un quarto quarto nel quale Curry è venuto fuori però Step alla fine ha chiuso con 28 punti ma solo 3 su 13 da 3 punti, alcuni anche molto forzati, Golden State che ha avuto tanto da Wiggins soprattutto nel secondo quarto ha chiuso con 22 punti 9 su 19 un giocatore del quale Golden State ha troppo bisogno in questo momento, Thompson 21 7 su 13 ha messo però molti punti nel finale quando la gara anche stava scappando di mano Tiri liberi altro dato decisivo, ne ha tirati 11 di più Sacramento, 29 contro 18 Sacramento è una squadra giovane, è una squadra allenata benissimo da Mike Brown che ha meritatamente vinto il Coach of the Year l'ambiente è strepitoso, veramente uno dei più belli da vedere in una partita, le guardo con il commento originale è strepitoso sentire ancora di più la carica del pubblico, l'entusiasmo, questa cosa del derby poi credo che li carichi in maniera ancora maggiore, dalla panchina poi Sacramento ha avuto 32 punti tra Mitchell e Monk che sono stati anch'essi decisivi. Partita strepitosa, se non siete riusciti ancora a vederla ve la consiglio perché sicuramente non vi divertirete, non vi annoierete perché l'intensità è stata totale ora 2-0 nella serie, si va a giocare a casa dei Golden State Warriors che hanno un po' già le spalle al muro devono cercare di riaprire qualcosa che sta diventando molto molto complicato nella notte tre partite, mi piacerebbe vedere i Knicks finalmente dopo il primo colpaccio i miei Knicks, come sapete è una delle mie squadre preferite che giocano gara 2 a Cleveland dopo aver vinto già gara 1 però credo ci sia una partita che è ancora più importante nell'altra serie a ovest più bella che c'è in questi playoff attualmente, ovvero Phoenix contro i Clippers i Clippers hanno già vinto gara 1 in Arizona, stanotte c'è gara 2 arbitra anche Scott Foster peraltro ed è la partita che ho scelto di seguire e della quale parleremo domani, Phoenix ha assolutamente bisogno di vincere perché andare poi a giocare in casa dei Clippers sotto 2-0 sarebbe molto molto complicato bellissimi playoff, molto divertenti, di là a Est Philadelphia ha battuto Brooklyn ed è già sul 2-0 ora che si prepara ad andare a giocare in trasferta sul campo dei Nets io vado avanti a seguire queste playoff, ragazzi fatemi sapere se c'è qualche squadra che volete vedere, della quale volete parlare, grazie per i commenti, grazie per esserci bellissimi playoff, sinceramente mi stanno riappassionando l'NBA e questa cosa mi fa molto molto piacere, tanti ricordi, tante belle cose del mio passato anche con l'amore per il basket americano iscrivetevi al canale, un bacione, alla prossima ciao a tutti da LOX e grande partita davvero questa sacramento Golden State ciao